Il Comune deve essere la casa del cittadino, dove tutti i cittadini possono venire e avere trasparenza sia sulle spese che sui servizi e chiedere i servizi essenziali che sono il diritto del cittadino, sanciti dalla Costituzione. Quindi un ottimo appello perché votare te, perché votare l'Affario Bencivenga e perché votare il Movimento 5 Stelle? Votare me perché chi mi conosce sa benissimo come sono fatto, quindi mi dedico al prossimo e mi dedico alla società. Votare il Movimento siamo il rinnovamento politico, quindi credete in noi e noi non vi deluderemo. La gente ovviamente a volte è stufa delle promesse di tutti, anche se voi non vi siete mai candidati come Movimento, come persona. Perché la gente deve credere a tutte queste cose che dire tutti quanti i politicanti? Perché parecchia gente si lamenta, vediamo anche di persona, su Facebook, nelle piazze. Allora, chi conosce il Movimento sa che il Movimento non è un partito politico, infatti noi non facciamo politica e non abbiamo mai promesso nulla a nessuno. Noi facciamo fatti, non parole.